In un periodo in cui regna l'incertezza sul coronavirus, chi altro può spiegarlo meglio se non qualcuno che lo vive in prima persona, da dove il virus è partito? Un giovane ricercatore che collabora con la Task Force situata a Wuhan, il focolaio principale dell'epidemia, ha pensato bene di spiegare in modo chiaro e conciso cos'è il virus e come affrontarlo. Ecco le sue parole e i suoi consigli. L'infezione da coronavirus non provoca raffreddore con naso sgocciolante o tosse catarrosa, ma tosse secca e asciutta. Questa è la cosa più semplice da sapere. Il virus non resiste al calore, muore se esposto a temperature di 26-27 gradi, quindi consumati spesso durante il giorno bevande calde. Il coronavirus è piuttosto grande, quindi ogni tipo di mascherina può fermarlo. Quando il virus si trova su superfici metalliche, sopravvive per circa 12 ore, quindi quando toccate superfici metalliche, lavatevi bene le mani e disinfettatele con cura. Il virus può vivere annidato nei vestiti e sui tessuti per circa 6-12 ore. I normali detersivi lo possono uccidere. Il virus si installa prima di tutto nella gola, provocando infiammazione e sensazione di gola secca. Questo sintomo può durare per 3-4 giorni. Il virus viaggia attraverso l'umidità presente nelle vie aeree, scende nella trachea e si installa nel polmone, causando polmonite. Questo passaggio richiede circa 5-6 giorni. La polmonite si manifesta con febbre alta e difficoltà di respiro, non si accompagna al classico raffreddore. La trasmissione del virus avviene per lo più per contatto diretto, lavarsi le mani frequentemente, disinfettarle è fondamentale. Potete fare gargaresmi con una soluzione disinfettante che elimina o minimizza la quota di virus che potrebbe entrare nella vostra gola. Così facendo, lo eliminate prima che scenda nella trachea e poi nei polmoni. E poi chiude dicendo, dobbiamo tutti avere migliore cura di noi, per il nostro bene e per il bene degli altri. Grazie.